Giuliano Razzoli, sentiamo anche lui. Viste le premesse, come giudichi nel complesso questo slalom di campi? Lo giudico bene perché non sapevo cosa aspettarmi. Finendo i 20 sicuramente un buon risultato. Speravo nei 15 dopo la prima manche, però anche la seconda ho perso molto l'ultimo tratto dove la gamba faticava un po'. Ecco, adesso c'è la prospettiva di un gennaio molto intenso. Beh, sicuro, avrò anche un po' più di tempo per trovare la condizione fisica dopo questo stop. Però, insomma, sono comunque soddisfatto di oggi e poi cercherò di essere più in forma alla prossima gara. In bocca al lupo! Buon anno!